Allora, io e Michele ci siamo conosciuti dopo aver fissato l'appuntamento con Andrea. Io ho trovato l'annuncio dell'appartamento di Michele in vendita sul motore di ricerca e niente, ci ho messo in contatto, ci siamo visti e ci siamo conosciuti così. Io e Gianluca ci siamo conosciuti proprio così. Io ho conosciuto Loreto Casa tramite una conoscente perché avevo visionato l'appartamento assolbiato l'ona di questa ragazza e visto che mi ero subito trovata bene con Andrea ho deciso poi di affidargli la vendita della mia casa perché rispondeva alle caratteristiche che cercavo alla ricerca di un venditore e infatti non ha deluso le mie aspettative vendendomi l'appartamento nei tempi indicati anzi probabilmente anche prima al prezzo che avevamo stabilito. Con Loreto Casa mi sono trovata benissimo, non è da me complimentarmi perché è già del mio carattere per nulla ma con Andrea mi sono trovata veramente bene e anche con i suoi collaboratori sempre sul pezzo, aggiornatissimi. Io sono una cliente comunque pretenziosa, non lascio mai nulla al caso e ho trovato comunque una struttura che rispondesse alle mie esigenze anche perché non si acquistano case tutti i giorni, non si vendono altrettante case tutti i giorni. Mi sono sempre fidata e ripeto le mie aspettative non sono mai state deluse. Con Loreto Casa mi sono trovato direi meravigliosamente bene è stata la mia prima esperienza nell'acquisto di una casa infatti mi sono affidato completamente ad Andrea che mi ha seguito in tutto e per tutto per qualsiasi dubbio, qualsiasi problema c'era sempre anche la minima problematica mi è stata spiegata, chiarita mi ha seguito passo passo fino a quando non abbiamo firmato il rogito la mia esperienza più che positiva lo consiglierei assolutamente a chiunque mi sento di consigliarlo soprattutto anche a dei ragazzi giovani come me che insomma non sono avvezzi a queste cose il mondo della compravendita è parecchio intricato devo dire io Gianluca volevo aggiungere che sono felice di aver venduto la mia casa che ho amato tantissimo a Gianluca e ringrazio Andrea di aver fatto una preselezione del cliente perché subito mi ha detto Michela ho il ragazzo giusto per te ed era vero io aggiungo che per il prossimo acquisto saprò a chi rivolgermi ciao 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 ciao